Il 20 e 21 settembre a Fondi si vota per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale. Sei sono gli aspiranti i primi cittadini pronti a contendersi la fascia trecolore. L'Associazione di Cultura Politica Obiettivo Comune organizza per venerdì 4 settembre alle 19.30 il confronto. Domande uguali per tutti, tempi di risposta e prestabiliti. La nostra emittente e media partner dell'evento. Seguiteci sia sulla nostra pagina Facebook che sulle nostre frequenze. Grazie a tutti.